Prima le gelate, poi la siccità. Negli ultimi mesi hanno messo in crisi la produzione di limoni, una delle più antiche e di pregio per la costiera amalfitana. Enzo Ragone. A guardare questo limoneto sembra che la produzione dello sfusato amalfitano quest'anno sia stata abbondante, ma se il tempo fosse stato più clemente questa cupola d'oro avrebbe il doppio dei frutti. Abbiamo avuto sia problemi di gelo che nel periodo di gennaio ci ha rovinato la produzione, circa il 40% di produzione già col gelo e poi con questa siccità che stiamo avendo i frutti si sono maturati prima e quindi abbiamo avuto, abbiamo oltre il 50% di prodotto che non raccoglieremo. La siccità prolungata ha fatto anticipare di due mesi la raccolta perché non tutti i limoni hanno avuto il tempo regolare di maturazione. Basta vedere già dalla forma, questo è la misura, un limone che è vivo, questo qua dalla grandezza già possiamo dire che non si è sviluppato perché non ha avuto il tempo di svilupparsi, che non ha avuto l'acqua adeguata, non ha avuto il clima adeguato che ha fatto sviluppare il frutto. In questi giorni i raccoglitori sono al lavoro senza interluzione, proprio per evitare che i limoni finiscano a terra e che poi non possano essere commercializzati come prodotti di altissima qualità e questa è proprio la condizione essenziale perché i limoni della costa d'Amalfi continuino ad essere l'eccellenza che tutto il mondo conosce. Il limone è l'emblema della nostra costa e ci rappresenta in tutto il mondo e noi ne siamo fieri e per questo lo vogliamo difendere e tutelare.